ma quanto spacca la nuova ala posteriore ferrari veramente ma veramente bella poi per quanto riguarda la livrea in sé sono soddisfatto non più bella della f1 75 standard ma per i 75 anni di ferrari per il centenario di monza per un'occasione speciale ci sta sicuramente meglio di un bananone tutto giallo mi dispiace soltanto che qualora una ferrari dovesse salire sul podio vediamo un leclerc o un sainz giallo ma alla fine poco conta il giallo modena per me è promosso sarà sicuramente una livrea più bella qualora ferrari in un flop in pista e per fortuna dopo sette video pessimisti finalmente ne arriva uno ottimista o che perlomeno da una leggera speranza ai tifosi ferrari ma non casiamoci troppo andiamo con ordine nuova postazione spero vi piaccia perché nel traslocare a napoli ho fatto danni quel monitor lì che vedete è nuovo è andata così nel trasporto insomma quindi vi supplico datemi un feed positivo anche perché questa postazione la vedremo per un sacco di tempo ci accompagnerà almeno fino a natale con ciò ti invito a iscriverti e a seguirmi su instagram ma adesso passiamo al content innanzitutto prima di parlare di ferrari novità ci arrivano anche dal fronte red bull in quanto sembra che i vertici red bull abbiano smentito l'introduzione di un telaio alleggerito a singapore cosa che chi mi segue da tanto ormai avevamo dato quasi per scontato e invece secondo franco nuñez motosport.com oltre a non avere un valido motivo per fare ciò in quanto il distacco di red bull da ferrari è decisamente grande il fatto che probabilmente non porterà il telaio a singapore è per non dare sospetti col budget cap insomma è una mossa per non creare polemica però resta comunque di fatto che un crash test per la scocca del team di milton kins è stato fatto altrimenti la fia non avrebbe concesso l'omologazione alla red bull potrebbe essere un anticipo per il 2023 è vero potrebbe però anche perché questo crash test con rispettiva omologazione non vale per il 2023 queste partono a novembre e non è detto che con il nuovo regolamento ricevano comunque l'approvazione insomma si è creato un po di mistero intorno alla rb 18 quello che però meno mi piace è che in casa red bull hanno già la testa altrove e poter già pensare a monza della stagione precedente all'anno dopo complice il distacco abissale che ha nei confronti di ferrari e diciamo che potrebbe tramutarsi in un dominio red bull potrebbe è uno scenario catastrofico però è da prendere in considerazione tonio ma non doveva essere un video ottimista per i tifosi ferrari avete ragione adesso ci arrivo dato che però questo è un video pericoloso poiché stiamo al ridosso del gran premio d'italia e verrà visto anche da persone occasionali sappiate che per caratteristiche del circuito monza è un circuito pro red bull e quindi la favorita al giovedì non è ferrari appurato ciò comunque ferrari si sta muovendo tantissimo per cercare di ritrovare quella performance che prima aveva che permette alla f1 75 di sfruttare appieno le prestazioni delle gomme infatti vedremo una monoposto in configurazione a basso carico aerodinamico ritornerà alla posteriore di spa quella che abbiamo visto nelle prove libere numero 2 non quella utilizzata in pista e quindi si cerca di ridurre il più possibile la resistenza all'avanzamento e soprattutto i piloti disporranno di mappature molto aggressive sui propri motori sulle proprie power unit panico all in da parte di ferrari è ormai da parecchio che non vediamo mappature spinte ma penso che possiamo essere d'accordo meglio una rottura piuttosto che una quinta o una quarta posizione poi se aggiungiamo anche che science partirà dal fondo per far debuttare il nuovo ibrido e leclerc ha comunque un motore relativamente fresco diciamo che sì è una scelta rischiosa ma comprensibile e infatti a monza vedremo anche un nuovo fondo o almeno in realtà è un vecchio fondo in quanto noi lo conosciamo molto bene è quello che veniva utilizzato prima del port ricard un passo in dito per cercare di farne uno avanti difatti quel fondo lì e lo starete sicuramente vedendo a schermo faceva convogliare molta più aria sopra il marciapiede questo perché il problema porpoising era relativamente superato ma dato l'alzamento delle vetture causa direttiva tecnica si cerca di convogliare di nuovo tanta aria sotto la monoposto così da attivare i canali venturi che se ricordate erano proprio il focus di ogni mio singolo video almeno tre mesi fa e quindi dato questo passaggio indietro non mi sorprenderebbe vedere delle forature delle feritoie per far andare altra aria dal marciapiede sotto la monoposto in modo tale da provare a riproporre quella ferrari che avevamo sempre visto è quasi un prendiamo la ferrari di baku e mettiamo la monza ovviamente non è la stessa cosa due circuiti diversi condizioni totalmente diverse però quella ferrari lì con tutto che non vantava delle migliori velocità di punta andava lo stesso il problema è che anche gli altri team lavorano però resta una soluzione quello che però mi preoccupa in tutta questa storia non è neanche come ci si sta muovendo ma è l'incertezza meteo puoi fare tutte queste modifiche a patto che hai due sessioni di prove libere che coincidono o almeno simili a quelle che saranno poi qualifiche gara e quindi il venerdì per ferrari conterà tanto ecco allora dovesse piovere al venerdì ma la gara sabato e domenica è asciutta potrebbe essere un problema o almeno un ostacolo e lo sto dicendo perché al momento che sto registrando questo video il meteo porta venerdì maltempo e sabato e domenica ok e poi ripeto soluzioni vecchie in un'auto che è mutata potrebbe comunque non essere una soluzione poi se aggiungiamo anche delle temperature basse sappiamo come si comportano gli pneumatici in casa ferrari portarli in temperatura in un circuito dove l'aderenza non è proprio il massimo potrebbe non mettere le clerche science nelle migliori condizioni di puntare a vincere per le clerche e rimontare per science però anche qui non facciamo che monza poiché è il tempo della velocità è soltanto velocità è vero il circuito di casa e ferrari conosce bene monza però ci vuole un giusto equilibrio aerodinamico e meccanico per affrontare quelle curve tipo la parabolica che mangiano lo pneumatico e tra l'altro è la zona dove io starò 21 laterale venerdì sabato e domenica sapete dove trovarmi con questo io vi auguro un buon weekend in questo momento sono in viaggio per chi non sa dove vedere la gara vi invito a seguirla in streaming gratuitamente sulla tv svizzera con tra l'altro la telecronaca italiana vi basta semplicemente andare sul sito collegarvi e guardare la gara l'unico problema è che se ti colleghi dal loro sito in italia vi compare questo infatti la tv svizzera non ha i diritti per farvi vedere la gara in italia ma attraverso il servizio di nordvpn potete vederla infatti questo ti permette di collegarti a un sito facendo finta di essere in un altro paese e in questo modo ti sarà possibile vedere il gran premio di monza ma anche altre gare allo stesso tempo se hai un abbonamento in italia ma stai fuori e vuoi guardarti il gran premio di monza ma anche gli altri ragazzi non potrai vederlo è sempre con nordvpn potrai tranquillamente guardarla collegandoti in italia insomma se scegli il pacchetto che trovo in descrizione stai a posto poi ci sono anche altri 800.000 vantaggi utilità soprattutto sul lato sicurezza e se ve lo consiglio è perché mi fido poi per qualsiasi cosa se non sei soddisfatto puoi tranquillamente disdire con questo io vi saluto ringrazio nordvpn per aver supportato anche questo canale da tonio era tutto passo e chiudo